Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Cesare Martignan. In FIPILI traffico a rilento tra Empoli e Montelupo Fiorentino in direzione Firenze. In questa direzione si è verificato un incidente tra Santa Croce sull'Arno e San Miniato in direzione Firenze con blocco provvisorio della circolazione. Per lavori programmati in FIPILI tra Empoli Est e Montelupo l'entrata Empoli Est verso Firenze resterà chiusa fino al 6 novembre. Coda per chi proviene da Firenze in uscita alla strassigna per viabilità esterna congestionata. Sul d'accordo c'è una Firenze possibili disagi per una riduzione di carreggiate in entrambe le direzioni per lavori tra Tavarnelle e Poggi Bonsi Nord. L'uscita a Bargino per chi viaggia verso Firenze resta chiusa per lavori programmati fino al 28 ottobre. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Altre info sui nostri canali social. Buon viaggio! Buon viaggio!